La crescita personale non funzionano e vediamo, vediamo come mai i consigli di crescita personale non funzionano. Quindi questo è un punto molto importante, un punto fondamentale che dobbiamo tenere presente. Questo credo che sia il punto base, insomma, perché oggi, diciamo, ci sono tantissime persone, questo è un canale di crescita personale, no, che vengono dati consigli di crescita personale. Ma cerchiamo di capire qual è il limite di questi consigli e come fare eventualmente ad utilizzarli nel modo giusto. Intanto, per prima cosa, mettete un like, che non vi costa nulla, quindi chi volesse metta un like, si iscrive al canale e attivi la campanella così potrà ricevere le notifiche dei nuovi video. E ovviamente chi vuole può abbonarsi al canale, chi vuole può dare un sostegno al canale. Salutiamo la nostra Roxy, Roxy Rosa. Allora, beh, cerchiamo di capire un attimino. Allora, i consigli di crescita personale, diciamo, quando sono presentati come una soluzione facile e veloce, diciamo, perché oggi noi siamo abituati, come dire, a delle pillole, no? Cioè, nel senso, ci sono ad esempio video, soprattutto su alcune piattaforme, ma anche ad esempio sulla piattaforma YouTube con di shorts, che è video di un minuto, di meno di un minuto, di 15 secondi. E se andate a vedere le statistiche, diciamo, sono i video che poi ricevono più views, più visualizzazioni, no? Video brevissimi. Ma questo per quanto riguarda i video, ma anche per quanto riguarda i libri, oggi sono molto meno letti. I libri che possono essere assimilati, possono essere introiettati, una persona può formarsi, si crea, diciamo, vengono letti meno, vengono letti superficialmente. Oggi sicuramente si ha accesso a molte più informazioni rispetto a un tempo, soprattutto legate ad esempio alla crescita personale, ma proprio questa facilità di avere accesso a tante informazioni fa che queste informazioni siano disperse, perché comunque noi abbiamo sempre lo stesso tempo a disposizione e quindi spesso riceviamo tantissime informazioni, talvolta anche contrastanti, che, diciamo, non ci consentono di elaborare un proprio percorso di crescita personale. Quindi il primo, appunto, che spesso i consigli di crescita personale sono troppo generici, poi analizzeremo ogni punto, sono applicabili a tutto il mondo, ma, diciamo, veramente le persone dovrebbero avere dei suggerimenti più individuali, no? Perché è ovvio che la vera abilità sta nell'apprendere un consiglio generico e applicarla alla propria situazione. Questo è quello che si può fare, ad esempio, seguendo, leggendo un libro. Un libro dà delle indicazioni che ovviamente sono generiche, però la persona, approfondendolo, assimilandolo, può renderlo, come dire, adatto alla sua esigenza personale. Oggi, invece, questo spesso non succede, perché le persone non sono più abituate a questo processo di assimilazione, come un video, no? Certo, un video lungo, magari, che può dare suggerimenti, può dare consigli, può essere molto utile per, diciamo, prendere delle informazioni e poi applicarle alla propria vita, alle proprie esigenze. Invece, spesso, noi non facciamo questo. Spesso cerchiamo la pillola, la pillola che ti dà tutto lo scibile umano, ma tutto lo scibile umano non ci può stare una pillola. Per cui, il secondo motivo è che spesso sono consigli semplicistici, no? I problemi della vita reale sono spesso complessi, multifattoriali, mentre i consigli di crescita personale spesso si concentrano su una singola soluzione, che può non essere sufficiente ad affrontare il problema nel suo insieme. Anche perché noi, per come ci stanno indottrinando, diciamo, perché ci stanno indottrinando, di fatto, non siamo più predisposti a elaborare delle informazioni in modo complesso. Ci sono persone che cercano la pillola della felicità, cercano il mantra della felicità, no? È quello che ti propongono, salutiamo anche Gina de Katsan, è quello che spesso viene proposto, no? Recita questo mantra e sarai felice, fai questa formula magica e otterrai quel risultato. Invece non funziona in questo modo. Purtroppo, o per fortuna, dipende dai punti di vista, non esistono dei consigli semplicistici per la crescita personale. Poi spesso, diciamo, anche sono basati, diciamo, sulle esperienze personali di chi li dà, no? Quindi non sono applicabili a tutti. Poi andrò ad approfondire ogni punto. Spesso alcuni consigli di crescita personale sono irrealistici o non applicabili. E questo ovviamente può portare a frustrazione. Ci sono delle persone, delle situazioni, no? Anche video, cose che ti danno, come dire, la formula magica, no? Fai questo rituale e otterrai che questa persona ritorni da te, no? Questa è un'altra cosa interessante, no? Oppure metti in atto questo comportamento e otterrai sicuramente questo risultato, questo beneficio. E quindi andiamo proprio in una situazione in cui le cose spesso sono irrealizzabili, no? Ma oggi anche nella crescita personale, ad esempio economica, finanziaria, basta aprire qualunque canale, ad esempio su YouTube, ma anche su altre piattaforme, dove ci sono quelli che ti dicono salutiamo anche Dorothy, non riesco a iscrivermi, cosa vuol dire? Sei iscritta Befana, se no non scriveresti. Non riesco a iscrivermi dove? Comunque salutiamo Dorothy, salutiamo Betty Kotic. Questa non riesce a scrivere, bah. Comunque, questo è un altro punto molto importante, no? Ci sono, diciamo, consigli veramente irrealistici e quindi se tu prendi un consiglio irrealistico, credi nella formula magica che ti farà arricchire, perché oggi ci sono spesso, no? Vediamo soprattutto crescite personali di natura economica che ti dicono persone, no? Che vivono, dicono di vivere a Dubai, dicono di essere straricchi, che ti vendono il corso di crescita personale sulla ricchezza fondamentalmente, perché in realtà non c'è niente di male, però dobbiamo tenere presente che anche in questi casi io credo che non esista una formula magica. Il percorso, salutiamo anche Pamela, il percorso di crescita personale è sempre un percorso lungo, può essere anche molto duro da affrontare, quindi sicuramente un percorso lungo e duro, non è sicuramente un percorso corto e facile, è sicuramente un percorso lungo e duro che salutiamo anche Tug e quindi se vuoi affrontare un percorso di crescita personale devi prepararti a prendere, diciamo, qualcosa di lungo e qualcosa di molto duro che ti consentirà, però diciamo piano piano un percorso comunque di crescita. Poi spesso alcuni consigli di, diciamo, di crescita personale sono inutili se non vengono seguiti da azioni concrete, no? Ci sono molte persone che possono ascoltare tutto e poi non fanno niente, quindi questo è importante rendersi conto che per avere un miglioramento personale devi fare delle azioni, devi fare delle azioni, non puoi pensare che avvenga tutto magicamente, no? È lo stesso discorso della legge dell'attrazione. Ci sono persone che credono che basta che se ne stanno a casa seduti sul divano, chiudono gli occhi, si visualizzano, che ne so, sullo yacht per dire e magicamente dopo un po' apparirà lo yacht nella loro vita, ma non succede questo, questo non è, non accade. i percorsi di crescita personale o in generale la legge dell'attrazione funziona facendo delle azioni, facendo delle cose, quindi questo te lo devi mettere in testa. Non esiste una crescita personale, un miglioramento personale in cui tu stai lì seduto sul divano con gli occhi chiusi, visualizzi le cose e le cose accadono. Se fosse, se fosse, diciamo, facile, se fosse facile, sarebbe, lo farebbero tutti, insomma, ci sarebbero un sacco di persone sedute sul divano e, diciamo, con i forzieri pieni, no? E invece non va così. I consigli di crescita personale sono inutili se non vengono seguiti da azioni concrete. È importante essere disposti a fare il lavoro necessario per apportare i cambiamenti nella vita. Poi c'è da dire che alcuni cambiamenti comportamentali possono essere difficili da mantenere nel tempo, quindi è importante trovare dei cambiamenti che siano sostenibili nel lungo periodo, perché è certo che tu puoi cambiare, ma se questo cambiamento puoi portare avanti soltanto due o tre giorni e perché non è sostenibile nel tempo, non funziona, non funziona. E poi dovresti cercare di adattare, diciamo, i consigli generali alle tue esigenze. Questo richiede anche un'altra capacità. E poi io quello che suggerisco sempre è fai le tue ricerche. Cioè non accettare ciecamente le cose che ti vengono dette, ma da chiunque, anche da me ovviamente. Non bisogna accettare ciecamente quello che ci viene detto. Dobbiamo imparare a fare delle ricerche personali, a metterci, come dire, fai le tue ricerche, vai a vedere che ci siano, insomma, delle cose che possano funzionare. I consigli di crescita personali secondo me devono essere degli spunti. Purtroppo le persone li prendono come la panacea di tutti mali, no? Ovviamente io credo che se stai cercando di migliorare la tua vita, i consigli di crescita personale possono essere un buon punto di partenza. Tuttavia dobbiamo poi lavorare sopra. Questo è il più grande problema per cui nessun consiglio funziona. Perché il consiglio di per sé, se non induce un cambiamento, diciamo, se non induce un cambiamento profondo e se non spinge l'azione, non otterrai dei risultati, no? Quindi questo è un punto fondamentale. Io credo che sia un po' la base. Cerchiamo di capire un attimino questi punti, insomma. Come dicevo, spesso la genericità, no? È ovvio che i consigli che vengono dati in generale possono essere applicabili a una vasta gamma di persone, no? Però poi tu devi adattare le tue esigenze individuali. Ad esempio, supponiamo un consiglio di crescita personale è dati degli obiettivi. Questo è un consiglio utile, ma sei tu che devi trovare gli obiettivi. Sei tu che devi trovarti i tuoi obiettivi. Perché se tu dati degli obiettivi, impostati degli obiettivi, ma se tu poi non ti trovi i tuoi obiettivi specifici, non è che chi ti dà il consiglio. Perché se qualcuno, uno può indicarti che strada fare per raggiungere un obiettivo, ma come dire, non ti può dare l'obiettivo. L'obiettivo è veramente qualcosa di personale, quindi devi darti tu l'obiettivo che vuoi. Questo è un punto fondamentale. Sei tu che ti devi dare il tuo obiettivo. E questo è molto importante, no? Bisogna sentire tante carampane, bravo. Questo credo che sia un punto importante. Un altro esempio di consiglio semplice di crescita personale è sii positivo. Pensa positivo. Certo, questo è un consiglio molto utile per migliorare il tuo umore, la tua motivazione. Però, diciamo, devi tu riempirlo con pensieri positivi adatti alla tua situazione. Cioè, non devi cadere nella trappola dei consigli generici. E la vera capacità è quella di applicarli poi a quelle che sono le tue esigenze specifiche. Salutiamo anche Pink. Questo è fondamentale, no? Tu non puoi pensare che un consiglio generico sia essere positivi vada bene per tutti. La vera abilità è quella di applicare i consigli che necessariamente devono essere generici alla tua situazione personale, positiva in quale area della vita. Quindi, per evitare di cadere nella trappola, diciamo, dei consigli di crescita personale generici, è importante essere consapevoli delle tue esigenze individuali. Pensa a cosa vuoi ottenere dalla crescita personale e cerchi consigli che siano adatti a te. Questa è la specificità, te la devi dare solo tu. Quindi, devi fare una valutazione delle tue esigenze prima di iniziare a seguire dei consigli di crescita personale. Prenditi il tempo per riflettere sulle tue esigenze e darti tu degli obiettivi. Cosa vuoi ottenere dalla crescita personale? Quali sono le aree di miglioramento? Se ovvio, l'area finanziaria, l'area, diciamo, relazionale, l'area sentimentale affettiva, devi cercare tu qual è l'area della tua vita, diciamo, interessante per te. E poi, spesso, i consigli di crescita personale sono troppo semplicistici. Cioè, facciamo un esempio pratico. Se una persona ti dice esci dalla tua zona di comfort, questo è un consiglio utile. Tutti dicono esci dalla zona di comfort, no? È un consiglio utile per superare le tue paure, per crescere come persona. Però, tuttavia, poi devi applicarlo a un problema tu che stai facendo, no? In questo caso, devi tenere conto di tutti i fattori. Ad esempio, per uscire fuori dalla zona di comfort, non è che puoi andare a muzzo, no? Spesso devi acquisire delle competenze. Cioè, voglio dire, se io devo uscire fuori dalla zona di comfort, perché voglio fare il triplo salto carpiata all'indietro? Eh, non è che posso mettermi lì a fare il triplo, dico, fino a ieri non saltavo niente, e oggi faccio il triplo salto carpiata all'indietro? Dovrò fare tutta una serie di apprendimenti. Quindi, il consiglio di uscire dalla zona di comfort è un consiglio utile, ma richiede anche qua un lavoro. Cioè, se tu vuoi fare qualunque cosa, se prima vendevi il gelato e adesso vuoi vendere microchip, dovrai conoscere, diciamo, no? Avere informazioni sui microchip, sui microchip, sul mercato dei microchip. Non è che puoi fare tutto a cazzo, no? Cioè, uscire fuori dalla zona di comfort non vuol dire fare le cose a muzzo. Bisogna sempre lavorare sulle cose, certo. Cioè, non è che... Quindi, invece, spesso si pensa che il consiglio di crescita personale è semplicistico, esci dalla zona di comfort e tu lo applichi così e quindi dici domani, inizia a fare quello, esco fuori dalla zona di comfort e vai allo sbaraglio, no? C'era una trasmissione tantissimi anni fa, mi ricordo, si intitolava Dilettanti allo sbaraglio, no? Dove prendevano delle persone che non sapevano cantare, adesso non mi ricordo più, era una trasmissione forse radiofonica addirittura. Si intitolava Dilettanti allo sbaraglio, no? Questo qua, quello che non aveva mai cantato nella sua vita, andava lì e si metteva a cantare. E' ovvio che esci dalla zona di comfort, se tu non hai mai cantato nella tua vita e vai a cantare, esci dalla zona di comfort, ma sicuramente farai una figura di merda, canterai male, quindi devi prima fare tutto un lavoro, no? Uscire fuori dalla zona di comfort in modo furbo prevede di fare un lavoro, prevede che tu farai lezioni di canto, imparerai il canto, andrai a cantare e poi potrai uscire fuori dalla zona di comfort. Non che vai così a muzzo, diciamo, a fare le cose alla Carlona, cioè perché se fai le cose alla Carlona è un uscire fuori dalla zona di comfort sbagliato, eppure ti dicono tutti esci fuori dalla zona di comfort, certo, ma facendo un lavoro sottostante. Quindi, per evitare, no, diciamo, di cadere nella trappola dei consigli di crescita personale semplicistici, è molto importante essere consapevoli della complessità dei problemi della vita reale, no? E quindi devi pensare a tutte le soluzioni possibili per il tuo problema, cercare consigli che siano integrati e fare anche un lavoro fondamentalmente. E questo è un punto fondamentale, deve essere aperta a nuove prospettive, serve anche tempo, serve pazienza, serve impegno, non esiste una soluzione magica che risolve tutti i tuoi problemi, no? Spesso chi si rivolge ai consigli di crescita personale spera che esista una soluzione magica, la polverina magica, che risolva tutti i problemi. Ebbene, questa polvere magica non esiste, purtroppo non esiste. E poi, spesso appunto, chi ti dà consigli di crescita personale te li dà sulla base delle proprie esperienze. Quindi, diciamo, e quindi generalizzi, no? Ad esempio, se ti dico prendi contatto con le tue emozioni, questo è un consiglio utile, però, come dire, devi anche qua capire in che modo prendere contatto con le tue emozioni. Ognuno lo fa, diciamo, sulla base del proprio pensiero, del proprio sentire. Quindi, anche qua, è importante ottenere questo. Poi, ci sono consigli che oggettivamente, secondo me, sono i realistici o difficili da applicare, diciamo, nella vita reale, no? E quindi, anche qua, devi prestare attenzione. O che comunque richiedono un qualcosa, un lavoro dietro. Ad esempio, se uno ti dice, come consiglio, devi leggere un libro al giorno. Ebbene, è un consiglio utile, no? Certo, se crescita personale, se tu ti leggi un libro al giorno, sicuramente migliorerai. Ovviamente, intanto, quale libro leggere? Perché, come dire, per raggiungere un tuo obiettivo. Ma poi è fattibile leggere un libro al giorno? Potrebbe. Io ne leggo anche più di uno al giorno. Ma non è che vi metto via leggere di sana pianta. Io leggo spizziche bocconi e le cose che mi interessano di un libro. Ne leggo anche quattro, cinque. Avendo il formato Kindle, diciamo, e l'abbonamento a Kindle, ogni giorno mi metto lì, dedico un po' di tempo e magari in mezz'ora, un'ora, ho letto quattro libri. Ma sicuramente non ho approfondito quattro libri, ma ho preso quattro concetti fondamentali di ogni libro. Però non è che questa abilità, diciamo, l'ho maturata con uno schiocco di dita. Perché anni fa, invece, c'è una mia abilità che ho maturato, diciamo, adattando, no? Adattandomi e c'è... Cioè, poi non so, è ovvio che se poi vedi che uno di questi quattro libri è particolarmente interessante, ti può dare particolarmente delle cose utili, magari ti metti lì e lo leggi approfonditamente. Però leggere un libro al giorno con la strategia vecchia di mettersi lì a leggere, praticamente è irrealizzabile, no? Perché dovresti passare tutto il tempo a leggere sto libro e quindi non hai più esigenze per fare altro. Quindi prima valuta quali sono le tue esigenze, no? Prenditi il tempo e cerca di capire. Impostati degli obiettivi realistici, cioè non cercare di cambiare tutto in una volta. Inizia con piccoli obiettivi raggiungibili e man mano che progredisci aumenta gradualmente le difficoltà. E questo è un altro punto molto importante, secondo me. È un punto molto importante. E poi, diciamo, questa è la cosa fondamentale, i consigli di crescita personale sono inutili. Sono inutili se non vengono seguiti da azioni concrete. E qua è chi riceve il consiglio di crescita personale che poi non fa delle azioni concrete. E se tu vuoi migliorare, è necessario essere disposti a fare il lavoro pratico, manuale, delle azioni per apportare dei cambiamenti nella propria vita. Ad esempio, se tu leggi un libro di crescita personale che ti consiglia, smetti di procrastinare. Cioè, perché procrastinare può essere, diciamo, un qualcosa di estremamente negativo, no? Tu leggi sto consiglio, smetti di procrastinare, però non sei disposto a cambiare le tue abitudini. Continuerai a rimandare una cosa, a rimandare l'altra. Bene, hai recepito il consiglio che è utile, smetti di procrastinare, ma poi nella pratica non smetti. Continui a fare, a mantenere le tue abitudini. Quindi, un consiglio di crescita personale di per sé diventa totalmente inutile se tu non fai poi le azioni concrete che ti portano, diciamo, a raggiungere quell'obiettivo, cioè a migliorare quella... È un lavoro di condizionamento di se stessi. Cioè, quindi devi fare un piano d'azione, prenditi il tempo per sviluppare un piano d'azione, ricompensati per i tuoi progressi. Eh, questo è fondamentale, no? Ma non è che, cioè, se ci hai messo 40 anni a strutturarti un'abitudine di rimandare tutto, poi devi fare delle azioni concrete, no? Quindi il consiglio va bene, ma se tu non fai delle azioni concrete non otterrai nessun risultato e quindi non funzionerà niente. È ovvio che poi, come dicevo prima, bisogna anche mettere in atto dei cambiamenti comportamentali, ma anche mantenerli nel tempo, no? È come quello che decide, dice, che ne so, il consiglio di crescita personale, fai esercizio fisico tutti i giorni. Quello lì inizia a fare, va in palestra, magari, per una settimana e poi smette. Anche lì non è che puoi vedere i risultati, no? Ma è come quelli che fanno video su YouTube, no? Ogni tanto qualcuno mi consiglia, mi chiede consiglio, come fare ad avere tanti follower su YouTube. Io dico, vabbè, trovati un argomento che ti interessa, fai tanti video, ma fai tanti video, no? Su un argomento che ti possa interessare, ovviamente, qualcosa che ti piace. Però poi non puoi sperare che tu fai un video, due video, tre video, e magicamente tutti guardano i tuoi video, perché, c'è anche qua, ma ci potrà essere quel caso di quello che fa un video, boom, scoppia. Però è come quello che compra un biglietto del superenalotto e, diciamo, e fa sei, è la prima volta che compra il biglietto. Ma invece, normalmente, non succede così, normalmente, l'algoritmo, tutte queste cose, tu devi fare i video perché ti piace farli, intanto, non tanto perché non sai che cazzo fare, tu odi fare video, ma vuoi portare un tuo valore giunto, ma essere sistematico, nella produzione. Se fai un video oggi, un altro tra tre settimane, un altro poi dopo tra un mese, poi dopo un altro qua, un altro là, fatti con svogliatezza, scazzato, eccetera, eccetera, le persone poi non ti guardano. Anche perché oggi c'è veramente una marea di, come dire, offerte, no? Quindi, magari, dieci anni fa, quando c'erano poche persone che facevano video, potevi dire quattro cagate e magari te le sentivano pure. Oggi c'è tanta offerta, no? Quindi, quindi devi avere la tua sistematicità. Molte persone iniziano, fanno, magari sono prese, ah, faccio video, faccio video, faccio video, ne fanno per 15 giorni, 20 giorni, poi, eh, no, vabbè, ma non ho successo, no, no, ma tanto non riguarda nessuno. E' ovvio che tu non puoi misurare un qualcosa. Il colonnello Sanders per vendere la sua ricetta di pollo c'è stato due anni, ha preso dei no per due anni, quindi questo è un altro punto fondamentale, devi perseverare e fare gli obiettivi a lungo termine, invece le persone ci mollano subito, sono subito demotivate, quindi il consiglio di crescita non serve un cazzo fatto in questo modo. E poi l'ultimo punto, bisogna essere realistici nelle aspettative, che è un po' la conseguenza di questo, cioè, eh, la crescita personale richiede tempo, impegno e non è sempre facile, no? Eh, ad esempio, eh, tu non puoi diventare un oratore pubblico eccezionale se segui il corso di public speaking di un giorno, ma ci sono persone che seguono un corso di public speaking di un giorno, e poi sperano di poter diventare degli oratori eccezionali, di diventare, che ne so, Bill Clinton, che dicono che sia il più grande oratore in lingua inglese, però attualmente vivente, non lo sapevo, ho sentito questo, comunque, oppure diventare Tony Robbins, o di diventare questo, di diventare quello, cioè, non puoi con un corso di un giorno, boom, avere tutto lo scibolo umano e diventare, quindi, eh, le cose richiedono tempo, e per evitare, diciamo, di cadere nella trappola delle aspettative realisti, irrealisti che devi pensare che devi lavorare sopra, imposta degli obiettivi smart, no, gli obiettivi specifici, misurabili, raggiungibili, accessibili, temporalmente collocati, fai un piano d'azione, dopo aver impostato gli obiettivi, prendi tempo per sviluppare un piano d'azione, sii paziente, sii perseverante, e questo è il punto fondamentale, se tu non riesci a fare questo, c'è poco da fare, non riuscirai a raggiungere dei risultati, ma in qualunque area della tua vita, e poi non è, salutiamo Roxy, e poi non è colpa del consiglio di crescita personale, è colpa tua, che molli, che non ti dai da fare, e questo è il fatto, no, e questo è il concetto di fondo, non puoi avere successo in nessun'area della tua vita, se non, se non, diciamo, metti in atto delle azioni concrete, bene, questo è quello che volevo dirvi, per cui mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, e seguitemi su tutti i canali YouTube, ovviamente, ovviamente,